Musica Buongiorno e bentrovati alla prima edizione della TG6 apriamo con la cronaca un'importante operazione svolta dal reparto operativo dei carabinieri di Teramo ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina per un valore complessivo di 500 mila euro il servizio 10 ordinanze di custodia cautelare di cui 6 in carcere e 4 misure di obbligo di dimora con contestuale obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tutte rivolte nei confronti di altrettanti albanesi e il bilancio dell'operazione denominata Elio svolta dal reparto operativo dei carabinieri di Teramo è coordinata dal PM Andrea De Feis che ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di cocaina per un valore sul mercato di 500 mila euro si tratta di un'importante indagine effettuata dalla procura di Teramo con la valida e incombiabile opera dell'arma dei carabinieri di Teramo e del nucleo operativo che ha portato alla emissione di 10 misure custodiali nei confronti di 10 appartenenti all'etnia albanese per traffici rilevanti di cocaina le persone erano già conosciute le forze dell'ordine? stiamo parlando di persone con elevata pericolosità sociale che già erano state più volte denunciate anche per spaccio di sostanze stupefacenti e che hanno dimostrato attraverso gli accertamenti che sono sviluppati nel corso dei mesi una notevole pericolosità sociale con sistematici spacci non solo nel Teramo ma nell'Interland tra persone anche di ambienti di notevole possibilità economica Questa operazione è conclusa oppure ci sono indagini ancora in corso? Sicuramente come tutte le operazioni da una poi dopo ne vengono sviluppate altre quindi noi sempre con la collaborazione e il sostanziale apporto della procura faremo ulteriori riscontri anche da tutti gli indizi che abbiamo trovato nella mattinata e sicuramente non escludo che ci possano essere anche ulteriori risvolti futuri Nel corso dell'operazione, che si avvalsa anche di intercettazioni e pedinamenti alcuni degli indagati sono stati ripresi mentre spacciavano in presenza dei figli di 2 e 3 anni La Corte Costituzionale ha dichiarato oggi inammissibili ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promossi dalle regioni sulla questione delle trivellazioni I ricorsi riguardavano il piano delle aree, il regime delle concessioni ed erano proposti nei confronti del Presidente del Consiglio, del Parlamento e dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Cassazione I ricorsi sono stati bocciati perché, spiega la consulta, non è stata espressa la volontà di sollevare i conflitti da almeno 5 dei consigli regionali che avevano richiesto il referendum prima delle modifiche legislative sopravvenute E manifestazione a Pescara contro i tagli annunciati dal Colosso del Tessile di Penne, la Brioni a presentarsi sotto al Palazzo della Regione 400 lavoratori, sigle sindacali e rappresentanti politici La richiesta è quella di un intervento da parte del Ministero delle Attività Produttive per salvare tutti i posti di lavoro Francesca Romana Testi Forza ragazze, facciamoci sentire, la Brioni non deve morire Scendono in piazza i lavoratori della Brioni, il Colosso del Tessile che la scorsa settimana ha annunciato 400 esuberi sul personale Una notizia che ha inevitabilmente preoccupato l'intero territorio Il marchio nel 2012 era stato acquisito dal gruppo francese Kering entrando in una nuova fase sotto la guida del direttore creativo Brandon Moulin Da poco invece è uscito dal brand Sicuramente un taglio di questo tipo significa deprivare completamente un territorio che è l'area vestina Non è un problema che riguarda solo la nostra provincia ma è un problema che riguarda l'economia regionale e quindi siamo qui questa mattina anche in attesa di essere ricevuti dall'assessore Attività Produttive e vediamo di capire cosa succede A manifestare ci sono i sindaci dell'intera area vestina venuti a sostenere il sindaco di Penne Rocco D'Alfonso Questa avvertenza recca con sé un caso drammatico che riguarda il destino di 400 dipendenti dipendenti dell'Abrioni Un'intera area, l'area vestina oggi è qui in difesa dei diritti di questi lavoratori perché non è giusto che per scelte imprenditoriali sbagliate siano i lavoratori a pagare Ci sono 12 comuni rappresentati oggi L'appello è alle istituzioni, al ministro delle attività produttive ad un accordo che riporti sui propri passi la decisione che coinvolge 400 famiglie in molti casi monoreddito Noi abbiamo chiesto come sindacato come organizzazione sindacale a livello unitario un impegno all'Abrioni di esplorare tutte le possibilità sia all'interno che all'esterno del gruppo per portare il lavoro alla Roma Style La maggior parte delle persone che vedete qua sono tutti operai e la maggior parte sono anche monoreddito in situazioni in cui farebbero collassare tutte le economie pennese E come avete visto nelle immagini a prendere parte alla manifestazione c'era anche l'assessore regionale alle attività produttive Giovanni Lolli che ha spiegato quali sono le misure che la regione chiederà al ministero per salvare una fetta importante del comparto tessile abruzzese Ascoltiamolo Nel giorno dell'annunciata manifestazione dei lavoratori della Brioni scesi in piazza per gridare di non essere licenziati La regione Abruzzo muove già il proprio piano per la salvezza E ancora una volta Giovanni Lolli, assessore alle attività produttive a tentare l'accordo con il ministero Ancora una volta perché, come spiega, in Abruzzo sono ben 81 le vertenze come quelle dell'Abrioni Il cammino è il seguente Intanto li ho convocati subito oggi perché bisognava dare la sensazione e l'idea che, insomma, di fronte a una cosa di questo genere nessuno di noi se la prendeva comoda Ovviamente è una questione nazionale quindi io adesso annuncerò all'incontro il tavolo nazionale che è stato già convocato e l'ha mi richiesto a Roma con l'azienda e dopodiché noi adesso dovremo sentire che piano industriale ha l'azienda e anche noi mettere a disposizione tutti gli strumenti che possiamo mettere a disposizione Io devo dire a tutti, non sarà facile è una delle vertenze difficili questa qui però non le vertenze, io ne ho seguito 80, anzi 81 e alcune di queste sono andate a buon fine Mai si sarebbe aspettato una notizia di questo genere da un marchio leader del tessile come l'Abrioni di Penne simbolo del Made in Italy più specializzato e apprezzato nel mondo il tessile infatti rientra nei comparti sui quali la regione ha investito speranze e piani Ci sono delle attività che appartengono che hanno un valore in più per il fatto di essere attività di eccellenza per le quali, insomma, sulle quali noi scommettiamo per il futuro noi abbiamo fatto la scelta nella strategia S3 dell'Abruzzo cioè la strategia di specializzazione intelligente di inserire il tessile non a caso come una degli assi strategici ma noi pensiamo a quale testa e certo non più al conto terzi in Faffason che si faceva qualche anno fa contiamo che ci sia qui l'eccellenza, l'alta gamma ma se proprio Brioni e Canali cioè le due strutture di più alta gamma che ci sono non in Abruzzo io direi proprio in Italia cominciano a cedere allora il problema diventa serio e l'Abruzzo punta al mercato della Corea del Sud e per farlo il senatore di Forza Italia Antonio Razzi porta a pescare all'ambasciatore coreano Yong Yun Lee organizzando un seminario rivolto ad imprenditori e forze economiche negli ultimi due anni la nostra regione ha infatti sviluppato un giro d'affari di 26 milioni di euro con la Corea che rappresenta oggi la tredicesima potenza economica mondiale la Corea del Sud rappresenta la tredicesima potenza economica mondiale quarta di quelle asiatiche tra i marchi più noti, colossi quale Samsung, LG, Hyundai in Abruzzo si aprono le porte alla collaborazione grazie all'intervento del senatore di Forza Italia Antonio Razzi non nuovo alle iniziative di collegamento tra paesi emergenti e il suo Abruzzo far conoscere l'Abruzzo dove è situato l'Abruzzo perché molti non lo conoscono ma anche per aprire la strada ai nostri imprenditori dove possono commercializzare con altri paesi questa volta è stata la Corea del Sud ma ci saranno ancora altri ambasciatori che verranno qui a presentarsi davanti a un parterre di 40 imprenditori è l'ambasciatore coreano Yong Yun Lee che spiega di essere in visita per sondare le potenzialità di mercato della nostra regione offrendo la possibilità di proporsi a tutte quelle imprese interessate alla Corea del Sud questo è una buona opportunità oggi attraverso il seminario per conoscere di più i settori di attività e di sviluppo che possono esserci con la regione Abruzzo nel momento in cui le imprese abruzzesi fossero interessate a incontrare o a fare scambi tecnici commerciali con queste imprese coreani noi potremmo comunque organizzare un luogo e altre varie opportunità di collaborazione future l'Abruzzo non è nuovo nei rapporti di esportazione con la Corea infatti come spiega il presidente della Camera di Commercio di Pescara solo due anni fa sono già stati stretti i rapporti economici che oggi toccano la cifra di 26 milioni di euro sull'intero territorio la Corea infatti si presenta come una terra economicamente ricca e ricettiva a giugno partirà una nuova ci sarà una nuova missione che siamo convinti sarà numerosa anche questa stamattina ci sono 40 aziende che si sono iscritte a partecipare all'incontro con l'ambasciatore Lee e con il direttore della Camera di Commercio Italo-Coreana il dottor Martolana stiamo parlando per l'Abruzzo di 26 milioni di euro di esportazione base 2014 e che sembrano un numero non importante ma se tiene presente che c'è stato un aumento di quasi il 30% siamo passati da 20 milioni a 26 milioni nel giro di un anno lei capisce che è un mercato assolutamente interessante spostiamo all'Aquila dove davanti a 1400 allievi il professor Antonino Intelisano ha tenuto una lezione magistralis per inaugurare il nuovo anno dei giovani allievi marescialli Daniela Rosone inaugurazione dell'anno accademico della scuola ispettori e sovrintendenti della guardia di finanza oggi all'Aquila alla presenza del professor Intelisano che ha tenuto agli allievi un alezio magistralis 1400 allievi presenti nella scuola di Coppito vera eccellenza nel campo della formazione un terzo degli allievi sono donne oltre ai tre tradizionali corsi per formare futuri marescialli ne esiste anche un quarto riservato quest'ultimo a personale già in servizio personale che decide di diventare maresciallo al momento a questo corso partecipano circa 200 finanzieri a fare gli onori di casa il comandante della scuola il generale Michele Carbone che ha ringraziato il comandante in seconda della finanza presente oggi all'Aquila il generale di corpo d'armata Giorgio Toschi il generale Carbone ha ricordato l'innalzamento della didattica negli ultimi anni grazie anche a docenti universitari qualificati e a magistrati che collaborano con la guardia di finanza Carbone ha avuto parole di stima anche per il professor Antonino Intelisano procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione che ha voluto condividere con la scuola aquilana la giornata di inaugurazione con una prolusione più che autorevole sui fondi per FESR la Commissione europea controlla l'applicazione dei fondi nella nostra regione visite di controllo in strutture pubbliche e private da parte del rapport Luigi Nigri Alfredo Primante visita in Abruzzo del delegato della Commissione europea Luigi Nigri per quanto riguarda la gestione dei fondi PORFESR in particolare sono state visitate alcune aziende del polo di innovazione automotive a Castellalto e a Montesilvano in quest'ultima è stato messo in risalto il progetto innovativo denominato Shelter che consiste nella creazione di un veicolo trasformato per favorire consegne di genere alimentare a temperatura controllata un sistema che da un lato permette di ridurre l'impatto ambientale generato dai veicoli commerciali e al tempo stesso di garantire una migliore tutela della tenuta dei prodotti alimentari trasportati la visita di Luigi Nigri in Abruzzo è destinata a controllare le strutture pubbliche e private beneficiari di finanziamenti europei per progetti attivati nell'ambito dei PORFESR 2007-2013 Abbiamo già visitato un progetto significativo, anche questo è molto significativo che ci mostra con molta chiarezza e con dei fatti che è possibile avere delle forme di collaborazione utili e proficue tra il mondo della ricerca e il mondo dell'impresa per rafforzare la presenza dell'Abruzzo sui mercati e quindi avere più ricchezza e più posti di lavoro Una clax action contro le bollette H per un servizio idrico non erogato in relazione all'inquinamento del fiume Pescara a promuovere l'azione sono le associazioni Pescara.0 e Terra Nostra Pagare un servizio che non viene erogato i cittadini chiedano la restituzione delle somme non dovute il caso è quello degli scarichi abusivi e dell'inquinamento del fiume e a proporre l'iniziativa sono due associazioni di Pescara L'azione risarcitoria dei cittadini nei confronti degli enti H e Sasi che sostanzialmente hanno richiesto sulle bollette una quota per la depurazione che però non è stata mai effettuata e quindi noi abbiamo riscontrato, abbiamo ritrovato una sentenza della Corte Costituzionale la 335 del 2008 che permette di chiedere proprio il rimborso di questo servizio non erogato in quanto proprio è stato sancito che la quota di depurazione non è un tributo ma un servizio che però non è stato erogato Quindi noi adesso chiederemo all'ACA di fornirci tutte le utenze che sono collegate a questi scarichi che vengono ritenuti abusivi ma probabilmente i cittadini, gli utenti non sanno che non sono collegati al depuratore perché magari sono discariche, sono tubature vecchie come è stato riscontrato e di conseguenza provvederemo con la mappatura delle utenze ad intraprendere la class action con i nostri avvocati per quanto riguarda il risarcimento anche per il malfunzionamento dei depuratori, non soltanto per il mancato servizio Cosa dovranno fare i cittadini per poter partecipare a questa class action? I cittadini potranno rivolgersi tranquillamente ai rappresentanti delle associazioni che avete appena ascoltato dai quali abbiamo preso spunto rispetto alla documentazione relativa alle sentenze di Cassazione e della Corte Costituzionale che si sono già pronunciate sul punto e probabilmente esistono gli estremi per una richiesta di risarcimento che coinvolgerà quei cittadini che dalla mappatura di cui parlava prima a Monaco risulteranno essere coinvolti nella vicenda Cambiamo decisamente argomento presentato questa mattina Teramo il corso di scrittura creativa dal titolo Come raccontare il corpo Corso curato dallo scrittore Andrea Carraro da Guendalina Di Sabatino del centro Anna Arendt e promosso dall'Ateneo Teramano Rettore, l'Università di Teramo oggi si ricchisce di un altro corso quello dedicato alla scrittura creativa Certamente ed è un corso straordinario per la qualità dei relatori la qualità dei docenti, per il coordinamento che viene assicurato da Andrea Carraro e per il partenariato con cui è stato realizzato questo corso il centro Anna Arendt l'Ateneo non può che ringraziare il centro Anna Arendt nella persona di Guendalina Di Sabatino e Andrea Carraro come coordinatore del corso Si chiama quindi Come raccontare il corpo un corso di scrittura creativa in cosa consiste? È un corso di scrittura creativa abbastanza tradizionale però di diverso rispetto a un corso tradizionale c'è l'attenzione appunto verso il corpo quindi verso tutte le espressioni del corpo la fisicità soprattutto e diciamo scrivere l'importante della scrittura narrativa che intendo trasmettere a questo corso più che insegnare è appunto raccontare l'uomo in tutte le sue sfaccettature del resto la letteratura da sempre si occupa di questo di raccontare l'uomo La data di inizio del corso e la durata? Il corso inizierà il 5 aprile con Sebastiano Nata lo scrittore Sebastiano Nata e concluderà il 7 giugno con il critico letterario Filippo Laporta il corso è articolato in 10 lezioni ogni lezione sarà preceduta dall'incontro con uno scrittore, critico letterario regista, avremo scrittrici e quindi sarà è un complesso impegnativo ma è rivolto agli appassionati di scrittura e anche agli studenti dell'Ateneo Terramano e alla fine del corso i racconti saranno pubblicati in antologia un'antologia curata dallo stesso conduttore del corso Andrea Carraro Al via il gemellaggio tra il Gran Sasso e la Laguna il comune di Crognaleto e Venezia diventano infatti sorelle di gusto attraverso un protocollo di intesa vediamo L'11 marzo l'incontro presso il comune di Venezia è la firma del protocollo di intesa con l'associazione veneziana albergatori per progetti di alternanza scuola-lavoro che vedranno coinvolti i studenti del di Poppa di Teramo questo per dare la possibilità ai nostri alunni di fare delle esperienze di alternanza scuola-lavoro fuori dal nostro territorio in una località come dire turistica all'avanguardia come la città di Venezia in alberghi a 5 stelle chiaramente i nostri ragazzi avranno la possibilità di fare un'esperienza di eccellenza quale sarà il primo step? quindi abbiamo subito deciso di iniziare questa esperienza con l'organizzazione di un evento promozionale presso un albergo di Venezia e il nostro personale quindi gli insegnanti tecnico-pratici di cucina, di sala e di accoglienza turistica organizzeranno questo evento insieme ai nostri studenti quindi le competenze di tutto il mio personale ci permetterà di organizzare questo evento la novità sarà anche la degustazione di prodotti tipici del nostro territorio saranno i produttori della nostra eccellenza la ditta l'azienda Montecchia Fracassa l'Alpino la Tacchinella di Domenico Antonio la Loggia Antica Tassoni Tartufi del Colle Castelcastagna Masciarelli Nicodemi Biaggi e Ciotti come vedete l'eccellenza del nostro territorio è una soddisfazione immensa sapere che il mio comune la mia agenda il mio territorio insomma arriva a Venezia come dire in pompa magna con il supporto ovviamente del BIM che io ringrazio per la grande disponibilità dell'Istituto di Poppa e di tutti coloro che hanno patrocinato l'evento e danno delega al sottoscritto di rappresentare l'Abruzzo in una città importante come quella di Venezia ed ora apriamo la pagina sportiva dramma ieri sera per il calciatore del Pescara Rolando Mandragora lo zio Mariolino Varometro è stato ucciso in strada con una raffica di colpi d'arma da fuoco all'addome la Pescara Calcio si è unita al dolore di tutta la famiglia in particolare del calciatore per la perdita dello zio suo grande tifoso e la squadra invece riprende a lavorare nel pomeriggio al Poggio degli Ulivi da valutare le condizioni di Berre e Memuschai in dubbio per la gara di sabato col Novara sarà ancora assente Campagnaro mentre tornerà a disposizione Crescensi ma ascoltiamo ora il difensore Davide Vitturini che ha da poco parlato al Poggio degli Ulivi che ha delle chance di scendere in campo dal primo minuto appunto nella gara ascoltiamo Davide Vitturini è il caso di dire innanzitutto bentornato a Pescara sì grazie un ritorno importante nella squadra che ti ha lanciato nel grande calcio sei tornato ovviamente per contribuire dare una mano a questa squadra sicuramente sono tornato per dare il mio contributo e cercando di farmi trovare pronto quando nel caso il mister mi chiamerà in causa sei arrivato in una squadra che non sta attraversando un momento positivissimo sul piano soprattutto dei risultati che ambiente comunque al di là di questo hai trovato ma io penso che non sia un momento negativo ma la squadra non uscirà perché è una squadra con grasse qualità e ha tutti i mezzi per ritornare a fare bene sei tornato a Pescara dopo la parentesi di Teramo che non è stata granché fortunata no però io l'ho reputo comunque una un'esperienza formativa per me è stata mi è stata d'aiuto e di crescita personale soprattutto parliamo di calcio giocato di questa gara di sabato con il Novara Vitturini potrebbe anche scendere in campo dal primo minuto tra l'altro sì sì io sono a disposizione del mister e devo farmi trovare pronto nel caso venga chiamato in causa partita importante che il Pescara dovrà cercare di non fallire siete consci proprio dell'importanza della posta in palio sì sì siamo sicuramente consci e sappiamo benissimo che può essere la partita del rilancio ma siamo stati anche un po' sfortunati devo dire è un momento che ci sta in una stagione comunque però sappiamo siamo consapevoli delle nostre qualità e quindi sappiamo di poter far bene io sono a disposizione del mister e se il mister lo riserà opportuno io sarò pronto a proposito di formazioni e di scendere in campo arriverà anche la convocazione con l'Under-19 un'altra bella soddisfazione sì sì una gran bella soddisfazione anche perché quest'anno abbiamo un impegno molto importante che è quello dell'europeo quindi ci sarà questa seconda fase a marzo e il passaggio consentirà di arrivare alla fase finale a luglio ed è tornato ad allenarsi oggi seppur in maniera differenziata il portiere della Virtus Lanciano Alessio Cragno la squadra continua così a preparare la sfida salvezza di sabato contro una salernitana risollevata dalla vittoria di lunedì sera a Cesena Andrea Costantini il blitz della salernitana sul campo del Cesena di due giorni fa rende ancora più importante lo sconto diretto di sabato prossimo alla Reiki tra l'undici di Menichini e la Virtus Lanciano posta in paglio altissima in quella che è una sfida salvezza con tutti i crismi e alla quale la salernitana arriva con il morale a mille dopo essere tornata ad una vittoria che mancava da sei partite la Virtus si presenterà comunque in terra campana con tre punti di vantaggio e l'obiettivo dunque è di non farsi quanto meno agganciare per la squadra di Primo Maragliulo sarà un ulteriore test di maturità la gestione tecnica dell'allenatore Salentino ha prodotto risultati entusiasmanti cui hanno contribuito le scelte del tecnico stesso e la spensieratezza dei tanti giovani arrivati il talento c'è resta ora da verificare come questi giovani reagiranno con l'andare avanti del campionato e a mano a mano che i punti in paglio cresceranno come peso specifico una bella sfida dunque per l'undici rosso-nero che dopo la vittoria sul Brescia per qualche ora è stato fuori dalla zona play-out per poi rientrarci a seguito delle vittorie di Provercelli e Modena una sfida resa ancora più difficile dalla penalizzazione i punti reali al momento sarebbero 35 piena zona salvezza dunque in attesa di sviluppi per l'ultimo deferimento di un paio di settimane fa intanto la squadra continua a lavorare Alessio Cragno dopo il riposo precauzionale di ieri è tornato a lavorare oggi in via differenziata nella doppia seduta Salviato ancora una volta non ci sarà ma rientrerà Aquilanti a Salerno intanto il patronne Lotito carica l'ambiente e chiama ma ha raccolto il pubblico affinché affogli la Rechi per quella che ha definito già la partita della vita Menichini sarà privo dello squalificato Zito del difensore Colombo in forte dubbi invece Oikonomidis dubbio anche il modulo se 4-3-3 o 4-4-2 nel primo caso troverebbe spazio l'ex Leonardo Davide Gatto andiamo in Lega Pro il difensore del Teramo Caidi salterà per squalifica la partita di sabato al Bonolis contro la Carrarese nei Toscani sarà invece assente l'attaccante ganese Giasi fuori per un mese e mezzo mentre in forte dubbio il portiere Lagomarsini per un problema all'aduttore della gamba destra il centrocampista biancorosso Cruciani intanto garantisce massimo impegno fino alla fine del torneo ascoltiamolo il nostro compito il nostro dovere è quello di fare 9 partite 10 partite al massimo cercare di vincerle tutte poi quello che succede vediamo d'altra parte è quello che proviamo a fare tutte le domeniche poi ti può riuscire meglio ti può andare peggio però l'impegno penso che questa squadra non mi sia mai mancato io sono arrivato ripeto sono arrivato da poco però sentire a gente che critica anche ragazzi che l'anno scorso erano idoli potrebbero fare stato e in questo momento criticarli mi sembra un po' sbagliato ecco ci sta ci sta che dopo una brutta prestazione ci sta che dopo brutte per partite giustamente esponi i tuoi i tuoi pensieri però da qui a criticare l'allenatore che comunque mi sembra che da quando allena ha sempre fatto bene quindi è una squadra che lo scorso anno ripeto ha fatto quello che ha fatto io penso che da come sono partite le cose inizio anno chiunque avrebbe messo la firma per arrivare come siamo adesso la carrerese purtroppo mi è capitato anche a me in passato di trovarmi in una situazione del genere e posso garantire che in quelle difficoltà ci si unisce cioè una squadra si unisce sicuramente e non è mai facile incontrare squadre che hanno una rabbia che va al di là del calcio perché come in campo riporti tutto quello che sono i problemi della settimana quindi sicuramente incontreremo una squadra con quella mentalità però non c'è nesse per nessuno che sia Carrerese che sia Juventus che sia ripeto dobbiamo farla nostra in qualsiasi maniera che sia sia che siamo belli che sia che siamo brutti dobbiamo farla nostra in serie D la Miternina ha sollevato ieri dall'incarico l'allenatore Vincenzino Angelone in attesa dell'annuncio ufficiale al suo posto sarà chiamato a dirigere la squadra Candido di Felice ed è tutto per questa prima edizione del TG6 l'appuntamento con l'informazione ricordo torna questa sera puntuale alle ore 19 grazie per l'attenzione per un seguimento